La senti l'elettricità nell'aria? Beh, del resto non potrebbe essere diverso. Perché? Ma perché abbiamo lui! Lo vedi sullo sfondo e lo rivedi. Qua, in questa doppia versione, l'artwork è la stessa, le carte sono entrambi carte promo, tuttavia presentano una bella differenza. Innanzitutto il layout non è lo stesso, promo nintendo numero 12 in entrambi i casi, solo che questa ha il layout elettronico ed è tutta sbrillucicosa, mentre questa non è sbrillucicosa, ha il layout classico ed è dedicata al decimo anniversario di Pokémon, un gioco di carte collezionabili e... Dai, quale preferisci? Devi scegliere. Vuoi il decimo anniversario o la classica promo sbrillosa? Fammelo sapere nei commenti. Grazie.